Siamo tornati alla bastiglia perduta perché ho preso un ramo profumato che serve a depetrificare questo tizio sono nella stanza sopra dove c'erano le mummie varie dai evochiamo tutti ok quindi ripristino a pv e un bel po' di incantesime di tutti i tipi dei ridi e posso scambiare le anime del boss con incantesimi e armi adesso non mi serve si lo so lo so che vi state un pochino stancando di me che parlo questo tizio ok allora continuiamo da qua qua di sicuro c'è qualcosa eh vedi vedi no eh sti muri che bloccano gli attacchi sempre quando servono tra l'altro tra l'altro dove è andato pinnacolo della peccatrice allora vediamo un po' farò e ah qua c'è qualcuno questi sono quelli che sento sento roba che spara ci c'è no ok ha fatto lui ah tipo lui è fuggito subito giù ha ucciso tutti bravi bravi ci succede tutto e tutti ma gemme a evitare so gli oggetti inutili che non servono a niente gemme a evitare no vai dai le gemme tutti su tutti su wow la magia il potere della magia adesso tipo prende 20.000 faro in damage e muore in effetti sta prendendo danni ragazzo ma è vivo straordinario signori e signori straordinario qua non c'è niente no solo acqua ok andiamo a quella direzione grazie cos'è cos'è come è stato sconfitto come perchè quando stava attaccando me no questa gente è inaffidabile ah non gli faccio un cacchio neanche neanche la magia cura pilo no 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 meglio andare di cappa e spada bravo bravo ok ok l'ho l'ho cato proprio in faccia al mostro che bello non 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 mi cadere dentro oh bene scudo custode campana da cosa da cosa è morto ci sa i zombie esplosivi beh ci credo l'hanno assaltato in massa che c'è no un pochino di ok così non mi freghi dopo ma che vuoi cosa vuoi beh bisogna quando pare sembra che siano deboli a backstab visto che con un pugnaretto del cacchio che c'è qui bisogna premere il tasto a grazie ok ho capito adesso come si aprono le paredi di un solio rituale del nord in pieno oceano mare quello che sia vediamo qua se c'è qualcosa chiuso vabbè c'è giungo che sta ripurendo la zona no ecco qua interruttore c'è qualcosa nessuno no bene la pietra di faros buono 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 oh nebbione lukatier lukatier ok fa sempre comodo e la specchio no l'ha fatto nessun oggetto qua è chiuso lukatier lukatier mi sa che si è incastrato nello scenario di qua stessa cosa ok mazzachiamo i boss lukatier 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 Il Roccon è molto molto vicino a quanto agile per essere incatenata, costipato, costipata. Ecco, qua Lugatier sarebbe servito. Epic fail della mitragliatrice. No, perché si perde il Rocco? Se fa male. Ah. No. Lascia perdere, non usare la mitragliatrice. Proviamo col Grobetto. Scoop. Non leggo due attacchi. Adesso sono anche senza fiaschette. No. No, 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 no. Non attacca... Ah. No. No, no, no. Oh, cazzo. E via, battuta. Con Arran e Kunimber. Con Arran che è morto, però non è riuscito a arrivare fino alla fine. Ok. Porta drammatica. Con apertura drammatica. Fai attenzione a paure. Cos'è? Un mimic? No, no, non lo capisco così. Eh, primordiale. Farò primordiale è stato arrivato. Con achievement. Tipo, fai attenzione nel senso prendi la roba nel barure. No, niente trappole. Ok, ok. Da solo prendi la roba. L'hanno profumato e fungo di Elizabeth. Ah. Teletrasporto automatico. Bene, abbiamo finito quella sezione di gioco. E adesso si va da qualche parte.